Ghostbusters 2021, titolo Ghostbusters Afterlife, titolo europeo Ghostbusters Legacy. È necessario un film del genere? Scopriamolo insieme, insieme alla storia della sua realizzazione. Wabalabadabab e bentornati, sono Mamamazzo, bentornati nella rubrica Ghostbusters, rubrica che farà da padrona nel mese di novembre, proprio perché il 18 novembre uscirà finalmente nelle sale cinematografiche Ghostbusters Afterlife. Chi è stato a Lucca Comics & Games in questi giorni ha potuto assistere alla proiezione in anteprima di questo film. I riscontri delle varie anteprime, c'è stata anche un'altra anteprima, se non sbaglio a settembre, vista anche dall'associazione Ghostbusters Italia, tutte le critiche, tutte le accoglienze di questo film sono state molto positive. Quindi mi viene da sperare bene per questo film, però ecco, la mia domanda alla base è questa. È necessaria una storia nel mondo dei Ghostbusters ambientata nel 2021? La risposta ovviamente è no. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che hanno un dio sumero nel frigorifero e di commentare qui sotto con quello che venne è parso di questo video e dei Ghostbusters in generale. E cosa vi piace o non vi piace dei Ghostbusters? Ghostbusters 2021 Afterlife, o che poi doveva essere Ghostbusters 2020, ma c'è stata una pandemia di mezzo e quindi è slittato di un anno. Ma perché fare un film nel 2020, un sequel, dopo 35 anni dal primo film e 30, 31, 32 anni dal secondo film? Beh, ragazzi, il motivo è presto detto, perché un membro originale del cast dei Ghostbusters si è sempre rifiutato di continuare il franchise dopo l'insuccesso di Ghostbusters 2. Questo membro è il membro che tutti amate, che è Bill Murray, che in realtà, per quanto sia stato il cuore magari a livello mediatico della saga dei Ghostbusters, è anche quello che ne ha impedito la realizzazione del terzo capitolo. Ora, io non ce l'ho con Bill Murray, però è evidente sin dal primo film che si è sempre atteggiato a star sin dal 1984. Lo potete anche capire dai commenti ai Blu-ray, ai DVD, da parte del regista e dei membri del cast. Vi faccio capire due cosette. Se ci fate caso, Bill Murray è stato il primo del cast a essere inzaccherato da Slimer. C'è questa scena in cui Slimer smerda Peter. Molto probabilmente, anche alla luce di questa esperienza melmosa, nel finale di Ghostbusters 1, Peter è l'unico che ha meno schiuma da barba addosso. Tutti gli altri sono completamente ricoperti di schiuma da barba, tranne Peter che ha proprio qualche macchia qua e là di schiuma da barba, dello Stave Pathman. Questo perché Bill Murray già in quella scena non si fece inzaccherare. Il fatto è che la produzione comunque consentì sempre le richieste di Bill Murray. Nel 1989, quindi ben cinque anni dopo il primo Ghostbusters, uscì finalmente il seguito Ghostbusters 2, che però era molto diverso nello script originale da quello che è il prodotto finale che noi tutti conosciamo. Il prodotto finale che noi tutti conosciamo è stato stroncato dalla critica perché fondamentalmente ripercorre paro paro tutte le fasi narrative del primo film. Però quello che dico io non è quello che volete da un sequel, lo stesso film rivisto, perché fondamentalmente è quello che la gente vuole, che il grande pubblico vuole. Sì, potevano comunque fare qualcosa di diverso. Invece c'è proprio la crescita dal nulla, la sequenza musicale in cui fanno successo, il Big Bad che piano piano si fa strada, la sconfitta finale, e un grosso coso gigante alla fine del film. Fondamentalmente succede questo. Questo è stato appunto il motivo per cui la critica ha stroncato il film. Nonostante la trama iniziale fosse molto diversa all'inizio, ci sono degli elementi molto molto interessanti nel secondo film, che però non sono mai stati girati, sono stati riscritti o addirittura sono stati rigirati dopo i primi screening che non erano stati accolti bene dal pubblico. Fatto sta che Ghostbusters 2 in patria non ha riscosso lo stesso successo del primo film, neanche per il pubblico, neanche per il mondo nerd, a differenza di quello che è successo qua in Italia, che fondamentalmente è stato salvato dal doppiaggio. Molte delle battute incisive di Ghostbusters 2 sono frutto dell'adattamento italiano. Se voi ascoltate Ghostbusters 2 in inglese, in lingua originale, vi accorgerete di quanto sono meno forti alcune battute. In realtà sono assenti, cioè sono semplicemente dei botte risposta per mandare avanti il dialogo, ma non ci sono delle vere e proprie frasi memorabili, come nel primo film, dove invece sono memorabili sia in lingua originale che in italiano. Alla luce di questo insuccesso, Bill Murray non volle più partecipare alla saga Ghostbusters. ed è un vero peccato perché The Necroid, che oltre ad interpretare Ray Stance, ha provato a scrivere la sceneggiatura del terzo capitolo di Ghostbusters sin dal lontano 1996. Quindi è dal 1996 che Bill Murray si fa desiderare. La trama di un ipotetico terzo Ghostbusters, non so se si chiamasse Ghostbusters Hellbent o qualcosa del genere, comunque era molto molto interessante, totalmente diversa dai primi due capitoli, e sembrava davvero uno scontro finale, un'apocalisse finale per i nostri eroi. Fondamentalmente si apriva un portale, come è successo anche nel primo film, ma che portava i nostri eroi in una dimensione infernale, chiamata Man-Heltam invece che Manhattan. Fondamentalmente spedivano, non so se i nostri eroi all'inferno, una versione infernale di Manhattan, o se spedivano l'intera Manhattan all'inferno. Questo per darvi un'idea, se avete visto il film Constantine del 2005, dove mostrano l'inferno come la stessa realtà, ma su un piano differente, e quindi è come se ci fossero dei livelli che si sovrappongono, e c'è il livello infernale sotto la superficie, sotto il primo strato di dimensione terrena, ecco, lì sarebbero finiti i nostri eroi. Sarebbe stato molto fico vedere una cosa del genere. Tra l'altro, tra le puntate più fiche della serie The Real Ghostbusters, abbiamo proprio una puntata di questo tipo, che io adoro, che è La Porta Parlante. Nella Porta Parlante i Ghostbusters affrontano una vera e propria apocalisse degna della sceneggiatura di un ipotetico film. Qualcuno apre un'antica porta scavando troppo nel sottosuolo per costruire la metropolitana, quindi scavano troppo, riaprono una porta antica, questa porta antica apre le porte dell'inferno, escono ogni sorta di spettri, non morti e demoni dal sottosuolo, impossessandosi di persone, treni, eccetera, e i Ghostbusters vanno negli scavi della metropolitana per capire cos'è successo e si trovano in questa stranissima dimensione fino a dover chiudere questa porta anche a costo di lasciarci le penne. Una puntata spettacolare e mi sarebbe davvero piaciuto vedere un film del genere in live action. Purtroppo appunto non è mai successo, ci hanno tentato nel 96, nel 98, nel 2000 e così via, fino al 2014, anno in cui Harold Ramis purtroppo è venuto a mancare. Oltre a questo rifiuto di Bill Murray a causa dell'insuccesso di Ghostbusters 2, c'è stato anche un motivo molto personale tra Bill Murray e Harold Ramis stesso. Harold Ramis è l'interprete di Egon Spengler, nonché cosceneggiatore insieme a The Necroid di Ghostbusters 1 e 2. Qual è il motivo? Nel 1992, quando girarono, non so se era, Groundhog Day, quindi ricomincio da capo, regia di Harold Ramis, Bill Murray e Harold Ramis litigarono fondamentalmente, e quindi c'era anche questa sorta di maretta, questa sorta di inimicizia, questo litigio che ha diviso questo gruppo dei Ghostbusters, litigio che purtroppo si è portato avanti fin quasi alla fine della vita di Harold Ramis. La malattia di Harold Ramis li aveva ricongiunti e forse anche alla luce di questo Bill Murray è tornato sui suoi passi in un certo senso, pentendosi magari di non aver più potuto collaborare con Harold Ramis dato che è venuto a mancare e questo probabilmente l'ho anche convinto a ripensare di partecipare alla saga. Ma un film, in realtà, un terzo capitolo ufficiale, ufficiale no, ma mi piace pensarlo, c'è stato questo terzo film, è Ghostbusters The Video Game, del 2009, dove fortunatamente, magari perché prestavano solo la voce ai propri personaggi, si è ottenuta anche la partecipazione di Bill Murray, quindi abbiamo tutto il cast originale che ridà la voce ai propri personaggi in questa opera videoludica che fondamentalmente è un terzo capitolo della saga, ambientata esattamente dopo il primo e dopo il secondo capitolo, se non sbaglio, è ambientata nel 91 o nel 92, adesso non ricordo. Nel 91 o nel 92 sarebbe stato necessario un terzo film, avrebbe avuto un senso logico vedere una squadra molto attiva che ha delle vicende lavorative e personali che continuano dopo i primi due film. Ovviamente, come ho già detto in altri video, a me di vedere cosa fanno in pensione gli acchiappafantasmi non me ne frega niente, sono passati 35 anni, cosa vuoi che succeda? Che uno va in pensione, si ritira e amen. Sarebbero potute succedere mille cose, ma se nel frattempo non me le hai mostrate, io do per scontato che non è successo nulla di davvero importante per raccontarci una storia. E quindi questo rende il film del 2020 non necessario. Aggiungiamoci che dopo Ghostbusters The Video Game del 2009 sono anche cominciati i fumetti della IDW, che vedete qui nell'angolino di cui ho già recensito il primo Omnibus Total Containment, che racchiude un sacco di storie che qua in Italia stanno ancora per essere pubblicate, quindi non sono ancora tutte pubblicate, queste sono in inglese, si colloca esattamente dopo anche gli eventi dei due film e del videogioco, per me la storia dei Ghostbusters canonica prosegue tranquillamente con i fumetti della IDW. Anche perché si vede tantissimo che sono ambientati negli anni 90, spuntano i primi telefonini, ma ci sono ancora le cabine telefoniche, non è assolutamente i Ghostbusters ambientato ai giorni nostri, assolutamente, quindi è un proseguo naturale della trama, che sono sicuro non ne terranno conto nel film Afterlife, però spero anche che non dicano cose che vadano a cancellare dalla continuity i fumetti, ma soprattutto il videogioco. Nel videogioco c'è anche l'assunzione di una recluta appunto chiamata The Rookie, interpretata dal giocatore in prima persona. Questa recluta in teoria doveva essere appunto uno dei protagonisti del film Ghostbusters Cell Band in cui andavano all'inferno proprio perché Bill Murray non ci sarebbe stato, avrebbero assunto una nuova recluta che avrebbe continuato diciamo la squadra originale. Come dicevo, nel 2014, dopo che è venuto a mancare Harold Ramis, ovviamente ci si è messi tutto il cuore in pace e si è chiusa l'idea di un sequel di Ghostbusters 3 con il cast originale, tant'è che nel 2016, due anni dopo, è uscito il reboot dal nome omonimo Ghostbusters, Answer the Call sottotitolo. Peccato che questo reboot, al di là che aveva un umorismo che poteva essere visto come parodistico rispetto a Ghostbusters, che comunque è una commedia, però l'umorismo di Ghostbusters del 2016 è assolutamente parodistico, era anche ambientato in un, chiamiamolo, universo parallelo, quindi non ci sono dei nuovi personaggi che prendono il mantello dei Ghostbusters originali 30 anni dopo, ma siamo in un universo dove i Ghostbusters non ci sono mai stati e questi sono i primi Ghostbusters che, diciamo, ricominciano da capo la loro avventura in questo mondo dove esistono i fantasmi. E qual è il problema? che essendo un reboot è un reboot senza gli stessi personaggi. Purtroppo già in America non riescono a scindere gli attori che interpretano i Ghostbusters dai personaggi, che da un lato è corretto perché tutto il carisma che i personaggi hanno ottenuto è data dall'interpretazione, a volte anche improvvisata, degli attori, ma ciò non vuol dire che il personaggio l'attore devono essere legati indissolubilmente per la vita. Potevano fare benissimo un reboot con dei personaggi carismatici che reinterpretavano Peter, Egon, Winston e Ray. Invece così, facendo un reboot con dei nuovi personaggi di cui non fregava niente a nessuno, tutto questo è andato a scatafascio. Poi, ovviamente, aggiungiamoci una bella infarcita delle opinioni più ignoranti sul fatto che siccome i Ghostbusters erano al femminile hanno rincarato la dose per affossare questo progetto e tutto è andato a schifio. Ma, credetemi, il film fa comunque schifo, non perché ci sono Ghostbusters di genere diverso, anche perché Ghostbusters femminili, se siete davvero fan della saga sapete che ci sono sempre stati. Janine nei cartoni è stata la prima a indossare l'uniforme, in Extreme Ghostbusters c'è stata Katie Griffith, Griffith o Griffin, non mi ricordo che poi c'è anche nei fumenti dell'IDW, quindi fondamentalmente di cosa si sta parlando. Il problema è che il film era proprio una merda, era proprio una parodia di quello che poteva essere Ghostbusters, era una mancanza di rispetto alla bellezza di Ghostbusters e quindi non ha fatto assolutamente successo. Proprio perché già questa cosa si stava annusando ancora prima che uscisse il film, la produzione, la Sony, era riuscita a convincere gli attori principali compreso pure Bill Murray a fare una comparsata e voi direte ma come Fabio mi ha appena detto che in questo universo i Ghostbusters originali non esistevano come possono esserci questi attori? Perché fanno altre parti. Bill Murray fa uno studioso, The Necroid fa un tassista e Ernie Hudson fa lo zio di una delle protagoniste. Ma cazzo ma allora che senso ha? Avete comunque scisso gli attori dai personaggi ma non nel modo bello cioè non avete scisso gli attori dai personaggi e avete fatto interpretare i personaggi che tutti amiamo da altri attori ma avete fatto interpretare agli attori che hanno reso fantastica questa saga dai personaggi di cui non frega un cazzo a nessuno siete stronzi allora Sony tu sei stronza tu fai merda Sony meno male che adesso con Venom l'hanno capito tutti io l'avevo già capito appunto dal 2016 chiuso questa parentesi sul reboot sfortunato sfortunato sul reboot che è una merda del 2016 arriva in scena Jason Reitman Jason Reitman è il figlio di Ivan Reitman ed è anche un regista cioè non è che solo il figlio di Ivan Reitman e ha scritto quindi questo film è scritto per la prima volta non da The Necroid ma da Jason Reitman ha scritto fondamentalmente una lettera d'amore nostalgica a questo franchise lui che proprio con questo franchise ci è cresciuto al punto da interpretare una piccola parte in Ghostbusters 2 quello che dice sapete mio padre dice che vendete fumo e merda ecco quello è Jason Reitman ecco in in questo film appunto ha voluto mettere tutto il suo cuore tutta la sua esperienza Ghostbusters nella nuova sceneggiatura al punto tale che ha colpito tutti gli attori tutti gli attori hanno trovato tutto il cuore che c'è in questa sceneggiatura al punto da essere stati convinti a reinterpretarla poi ovviamente sicuramente faranno una minima comparsa sicuramente li vedremo per una scena ne sono sicuro non penso che abbiano smosso Bill Murray più di tanto e voi direte allora cosa c'è nel resto della pellicola c'è un passaggio di testimone tra l'altro un passaggio di testimone che non mi convince per niente anche dai giocattoli che sono usciti su questa saga su questo nuovo capitolo della saga di Ghostbusters fanno presagire che oltre a i tre Ghostbusters originali rimasti che faranno appunto una comparsata ci saranno anche i bambini che abbiamo visto nel trailer che indosseranno proprio le uniformi di Ghostbusters nonostante nonostante in Ghostbusters 2 c'è stata proprio la battuta lo zaino protonico non è un giocattolo qui sembra proprio che ci siano dei bambini che usano queste armi nucleari ma non fa niente oh siamo in America vendono le pistole al supermercato vuoi che non possano utilizzare un acceleratore nucleare ci può stare però fa molto strano perché proprio dei bambini perché così piccoli è un rimando diciamo al successo che la serie super nostalgica per eccellenza Stranger Things ha portato nelle case degli ascoltatori quindi sapendo appunto che attingendo al fenomeno Stranger Things avrebbero fatto successo hanno messo lì dei bambini cosa che io detesto perché appunto non mi piacciono le storie dove ci sono i pischelli che vivono avventure non mi sono mai piaciute neanche da bambino a me piacevano i bambini quindi mi perdonerete e quindi perché dico che mi fa storcere il naso questo passaggio di testimone perché questi bambini sono davvero piccoli a parte uno e quindi dubito che questo franchise rifiorisca con un'eventuale nuova trilogia perché questi non possono certo aprire una nuova agenzia di Ghostbusters dal momento che sono semplicemente dei minorenni dei preadolescenti e quindi non è non è possibile che un domani aprano di nuovo l'agenzia dei Ghostbusters per lavorare l'unico che potrebbe farlo è appunto il personaggio di Paul Rudd che è un geologo in questo film ma sarebbe comunque l'unico adulto quindi fa molto strana come cosa quindi non lo so non so se questo penso che a tutti gli effetti questo film sia a sé stante e non faccia ripartire il franchise come per esempio è successo per la guerra stellare e anche alla luce di questo che dico questo film è necessario assolutamente no ovviamente è una storia è una sorta di epilogo di Ghostbusters ma nonostante non sia necessario sono sicuro che a tutti gli effetti mi farà battere il cuore quindi in questo io ci credo comunque molto credo che possa far rispolverare anche alle persone che non sono cresciute con i Ghostbusters possa far sperare in qualcosa però ecco non vi aspettate chissà che cosa sicuramente dopo l'insuccesso del 2016 tutto quello che esce è meglio e quindi avremo questo effetto di contrappasso ma non per questo sarà un capolavoro sarà sì un omaggio a quello che è stato Ghostbusters per la nostra infanzia niente di più niente di meno e godremo per quello che avremo grazie per avermi ascoltato fino a qui come sempre io con l'inchina e con l'imbuto vi saluto ci vediamo nei prossimi video di Ghostbusters e poi ovviamente per la recensione a questo film arrivederci